però c'è una città in casa la sua ehi si vede si ma si può rifare dobbiamo rifarlo no rifallo rifallo minchiai pure tu le batterie scariche a filo ma le caricate filo ti sporca il bagno di brutto e 3 2 1 non morire andate 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 dai disco no cazzo mi si visto il braccio era perfetto scusa rifallo rifallo sono lì davanti tiralo su 3 2 1 no aspetta vai no 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 non stare a simulare sei solo spaventato ok così caldo incline perfetto ciao cioccolina per ora vai ti di 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 ti di 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 voce da pembina e boi. Ok, mi aiuto. Eh, così. Cinema, ti vado a un cinema, un cinema. Sino a qualche noffa. Ci sta? Sì. Ciao, Maria. Non me lo so. Dai. Ulto. Da Filippo Ferrati e tutto, linea allo studio, non Calieri. No, fallo proprio più. Non capisco dove sono. Ok, è andata. Filo abbiamo questo qua. E ora gli rispondi all'urlo. Fede, quell'urlo che ha fatto Filo. Lui gli farà, è vero, gli farà. Anticipo! Ciao, Fede! Cosa? Dai, buono! Ciao, Fede. Backstage! Backstage! Noi stiamo aspettando realmente il pullman per fare questa scena. Esatto. Non abbiamo teatro di poso, green screen. No, no. Noi tutto al naturale. Non abbiamo prenotato pullman, tutto così. Tutto al naturale, come il tonno. Backstage, backstage. Siamo qui. Sono da solo alla fermata. Abbiamo appena caricato Veronica sul pullman. Adesso Silva è andata a prenderla. E questa è la dura legge delle riprese. Tutto così. Tutto... Tutto non lo so. Ciao ragazzi. Ciao! Is that amazing? Is that amazing? Grazie per la visione.